Su sollecitazione anche del Presidente del Galla, il Sindaco di Casalbuo Natilio Romano, ho convocato questa conferenza dei sindaci perché, come è noto, dal 1 settembre è possibile poter presentare le richieste di finanziamento sia per la parte pubblica che per la parte privata su queste risorse che sono state ottenute per il progetto LIDER. Quindi è opportuno fare un ragionamento con tutti gli enti pubblici e quindi tutti i comuni per poter utilizzare al meglio queste risorse e perché no cercare anche di ripartirle equamente su tutto il territorio perché è ovvio che ogni comune magari ha la possibilità di presentare le richieste per poter accedere a queste risorse con le proprie progettualità, però dobbiamo fare in modo che ci sia un minimo di riparto tra tutti i comuni. Quindi la ricerca dell'Unione è alla base di questa conferenza? Alla base di questa conferenza c'è la volontà di continuare. Ecco, l'ho detto in tante occasioni, noi abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere che il futuro del nostro territorio deve essere legato al turismo, all'ambiente e all'agricoltura. Abbiamo adesso a disposizione questi strumenti finanziari, questi finanziamenti appunto che sono arrivati al territorio anche per una progettualità che noi abbiamo messo in campo negli anni passati. È il momento di cominciare a dare concretezza a quello che noi abbiamo detto anche durante il periodo in cui abbiamo protestato per il petrolio e se lo facciamo insieme in modo unitario e anche con una certa condivisione io credo è sicuramente positivo perché cerchiamo di mantenere anche una sorta di coordinamento sul territorio anche negli interventi che si vanno a fare. Quindi avere la capacità di fare anche delle scelte e magari anche delle rinunce perché ovviamente non tutti i comuni possono ottenere il finanziamento e quindi è il momento di saper anche trovare delle intese su questo e credo che sia un fatto di maturità. Siamo abbastanza soddisfatti da questa prima fase, come sapete abbiamo pubblicato già da una ventina di giorni sei bandi molto interessanti, cinque di questi bandi scadono il 30 ottobre, il sesto invece scade il 30 novembre. Abbiamo visto che l'attività di divulgazione, di animazione che stiamo facendo sul territorio è abbastanza passata anche grazie a un lavoro dignitoso e pregiato che stanno facendo gli uffici, il coordinatore e tutte le persone che abbiamo assunto al Galle in questa fase così delicata per cui siamo davvero molto contenti di questo momento e di questo passaggio di notizie che c'è stato. Ora gli uffici stanno lavorando, ovviamente siamo a disposizione di tutti abbiamo mandato delle note, delle circolari informative rispetto a quelle che sono le opportunità ma non solo abbiamo contattato i comuni, i sindaci e abbiamo messo a disposizione la struttura per eventuali incontri che si vogliano fare nelle singole municipalità ma abbiamo mandato anche una nota alle associazioni di categoria, agli ordini professionali per far capire che c'è questo tipo di opportunità. Come ho detto anche nell'incontro iniziale non è un'opportunità straordinaria perché le risorse sono davvero misurate, sono poche perché purtroppo queste sono le risorse che la Regione Campania ha affidato ai 13 Galle della Regione stessa però noi cerchiamo di fare il meglio di noi stessi per cogliere due risultati se ci riusciamo e speriamo di sì. Nel primo vogliamo tentare di divulgare la notizia quanto più possibile mi sembra che questo sia un po' l'oggetto di questo momento della discussione e l'altro è di spendere nel migliore dei modi queste poche risorse che ci sono state assegnate e mi pare che siamo sulla strada giusta.